...sperimento di persone condannate, approvato dal Senato, Italia-Tukrmenistan, scambio di informazioni in materia fiscale, protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo dei sistemi informatici, modifica dell'allegato 4 della Convenzione Italia-Francia-Germania-Gran Bretagna sull'istituzione dell'Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in Materia dei Romamenti-Occar, Italia-Bermuda, Mi perdoni, mi perdoni, onorevole Fraccaro. Colleghi, per favore, c'è una questione di decenza. Chiedo ai colleghi di liberare l'emiciclo, se è possibile di uscire, non dico in silenzio, ma parlando a bassa voce. Stiamo dando comunicazione nell'esito della conferenza dei Presidenti di gruppo. Prego. Italia-Bermuda, scambio di informazioni in materia fiscale. Italia-Cile, mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. Martedì 5.00 PM come eventuale prosecuzione notturna. Mercoledì 6.00 luglio AM e PM con eventuale prosecuzione notturna con votazioni. Esame della questione pregiudiziale presentata al Decreto Legge e Interventi per il Territorio. Seguito dell'esame, argomenti previsti nell'ultima settimana di giugno e non conclusi. PDL, reato di frode in processo penale di pistaggio, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. DDL, direttifica Italia-Tagikistan, cooperazione culturale scientifica e tecnologica. Italia-Marocco, trasferimento di persone condannate, approvata dal Senato. Italia-Turkmenistan, scambio di informazioni in materia fiscale. Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici. Modifiche all'allegato 4 della Convenzione Italia-Francia-Germania-Gran Bretagna sull'istituzione dell'organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR. Italia-Bermuda, scambio di informazioni in materia fiscale. Italia-Cile, mutuo assistenza amministrativa per la prevenzione dell'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. Mercoledì 6 luglio, al termine della votazione, avrà luogo la discussione generale del Decreto Legge e Proroga a Missioni Internazionali ove trasmesso dal Senato, scadenza 15 luglio 2016, giovedì 7 e venerdì 8 luglio a MPM con eventuale prosecuzione notturna. Seguito dell'esame, Decreto Legge e Proroga a Missioni Internazionali, ove trasmesso dal Senato, scadenza 15 luglio 2016, PDL disposizione sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvata dalla Camera e modificata dal Senato. Argomenti previsti nelle giornate precedenti non conclusi, lunedì 11 luglio a MPM con eventuale prosecuzione notturna. Discussione generale, Decreto Legge sulla trasformazione. Sul trasferimento a terzi di IV da inviare al Senato, scadenza 8 agosto 2016, PDL di ratifica di convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, di DL Contrasto della Povertà collegato, martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 a MPM con eventuale prosecuzione notturna e nella giornata di venerdì 15 luglio con votazioni. Seguito dell'esame, Decreto Legge sul trasferimento a terzi di IV da inviare al Senato, scadenza 8 agosto 2016, PDL di ratifica della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, di DL Contrasto della Povertà collegato. Nel corso della settimana potrà avere luogo il seguito dell'esame e degli argomenti previsti nella settimana precedente non conclusi, lunedì 18 luglio, a MPM con un'eventuale prosecuzione notturna, discussione generale, Decreto Legge e Interventi per il Territorio, da inviare al Senato, scadenza 23 agosto 2016, PDL Costituzionale modifiche allo Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, approvato in seconda deliberazione dal Senato, già approvata in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera. Bilancio interno della Camera, PDL Contributi Universitari. Martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, a MPM con eventuale prosecuzione notturna, nella giornata di venerdì 22 luglio con votazioni. seguito dell'esame, Decreto Legge e Interventi per il Territorio, da inviare al Senato, scadenza 23 agosto 2016, PDL Costituzionale modifica lo Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia-Giulia, approvata in seconda deliberazione dal Senato, già approvata in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera, PDL Contributi Universitari. Giovedì 21 luglio, a MPM, avrà luogo il seguito dell'esame del bilancio interno della Camera dei Deputati. Nel corso della settimana potrà avere luogo il seguito dell'esame e gli argomenti previsti nella settimana precedente non conclusi, lunedì 25 luglio, a MPM con un'eventuale prosecuzione. notturna, discussione generale di IDL di rendiconto e assestamento, ove presentati dal Governo e conclusi dalla Commissione. PDL in materia di equilibrio e di bilancio nelle Regioni e negli enti locali, ove trasmesso dal Senato e concluso dalla Commissione. Mozione Grillo ed altri, numero 101178, concernente iniziative relative al regime dei farmaci e delle relative rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alla questione dei cosiddetti farmaci innovativi, PDL e legalizzazione della cannabis. proposta di inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sul degrado delle città e delle periferie, PDL e videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole d'infanzia, ove concluso dalle Commissioni, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 luglio, a MPM con seguito dell'esame di DL a MPM con eventuale prosecuzione notturna nella giornata di venerdì 29 luglio, con votazioni, seguito dell'esame di DL di rendiconto e sestamento, ove presentati dal Governo e conclusi dalla Commissione, PDL in materia di equilibrio e di bilancio delle Regioni e degli enti locali, ove trasmesso dal Senato e concluso della Commissione. Mozione Grillo ed altri, numero 1, 01178, concedenti iniziative relative al regime dei farmaci e dei relativi rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento alla questione dei cosiddetti farmaci innovativi, PDL e legalizzazione della cannabis. Proposta di inchiesta parlamentare sulle condizioni di sicurezza e sul degrado delle città e delle periferie, PDL e videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole di infanzia, ove concluso dalle Commissioni. Lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate a question time avrà luogo il mercoledì dalle ore 15. Lo svolgimento di interpellanze urgenti avrà luogo di norma il venerdì dalle ore 9.30. Il martedì di norma, tra le ore 9 e le ore 11, avrà luogo lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni. La Presidente si riserva di inserire nel calendario l'esame di ulteriori progetti di legge di ratifica licenziati dalle Commissioni e di documenti licenziati dalle Giunte per le autorizzazioni. L'organizzazione dei tempi per la discussione degli argomenti scritti nel calendario sarà pubblicata in calcio e reso il conto stenografico della seduta odierna. Per quanto riguarda la discussione delle proposte di legge numero 45b, 1460b, 3594, 1159 abbinate, Senato 2344, 3235 abbinate e 261, 1037, 3629 e 3829 abbinate, non chiede disegni di legge di rendiconto e sestamento del documento XII, numero 6569. L'organizzazione dei tempi sarà definita al termine dei lavori e delle compagnette. Competenti Commissioni di Medico, comunico che è stato altresì predisposto il programma dei lavori per i mesi di agosto e settembre 2016. Agosto, seguito dell'esame di argomenti previsti nei mesi di luglio e non conclusi. TDL, mercato concorrenza collegato, approvato dalla Camera, ove modificato dal Senato. PDL, registri dei tumori, settembre. PDL, contrasto al cyberbullismo, approvato dal Senato. PDL di delega con la relazione di un testo unico in materia di attività sportiva. Mozioni Locatelli, Malisiane, Nicchi, Butiglioni, Fitzgerald, Nissoli, Palese, Matteo, Bragantini ed altri, numero 101-291, Rosato ed altri, numero 101-292, con cernenti iniziativi in relazione al riconoscimento del genocidio del popolo jazzida. TDL, tutela del lavoro autonomo e non imprenditoriale, misure per favorire, l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato collegato, ove trasmesso dal Senato e concluso dalla Commissione. TDL, disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo, deleghe per la riforma della normativa in materia di attività culturali collegato, ove trasmesso dal Senato e concluso dalla Commissione. PDL, disposizione in favore degli orfani di crimini domestici, ove concluso dalla Commissione. PDL, separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, concluso dalla Commissione. PDL, fondo per il pluralismo, l'innovazione dell'informazione approvata dalla Camera, ove modificata dal Senato. TDL, contrasto del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, ove trasmesso dal Senato e concluso dalla Commissione. PDL, misure di protezione di minori stranieri non accompagnati. PDL, in materia di candidabilità, elegibilità e ricolloquamento di magistrati, approvato dal Senato. PDL, istituzioni di ferrovie e turistiche. TDL, delega in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, approvato dal Senato, ove concluso dalla Commissione. Mozione Vignali ed altri, numero 1, 0, 1, 2, 8, 6, concedente iniziativa avvolta alla diffusione e valorizzazione della cultura musicale, nonché a rilancio dell'attivo settore. Mozione Scott ed altri, numero 1, 0, 1, 3, 1, 4, concedente iniziativa in materia di riforma della legge elettorale. PDL, prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo giadista. Mozione Federica ed altri, numero 1, 0, 1, 2, 8, 7, concedente iniziativa a sostegno dei cittadini colpiti dalla crisi ecologica, economica, anche in relazione alle risorse attualmente destinate all'accoglienza di immigrati extracomunitari. PDL, recante modifica il trattamento economico e previdenziale dei membri del Parlamento, ove concluso dalla Commissione, PDL sostegno e valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Nell'ambito del programma è inoltre previsto lo svolgimento di atti di sindacato e ispettivo e potranno essere inseriti inoltre eventuali ulteriori progetti di legge di ratifica licenziati dalle commissioni e documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni. La ringrazio, onorevole Fraccaro, in particolare per aver esperito questo tentativo di informare l'Assemblea in un clima tutt'altro che favorevole. Comunico che nella seduta di ieri, martedì 28 giugno 2016, la settima Commissione Permanente Cultura, Scelsa e Istituzione ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge 2.572 Carocci, modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948 numero 421 ratificato con modificazione della legge 5 marzo 1957 numero 104 riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini assegnato in proprietà al Comune di Santa Margherita Ligure. Comunico che nella seduta di oggi, mercoledì 29 giugno 2016, la nona Commissione Trasporti ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge Tullo ed altri, modifiche del codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. 2721, col seguente nuovo titolo, modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizione in materia di servizi.